Ciao a tutti, benvenuti in questo ennesimo episodio ho costruito il pavimento in questa zona ho messo a fare altro col cor, col cor cake, come cavolo si dice ok, ne prendiamo dell'altro ho simulato abbastanza fili ah, mi sa male questo blocco ok, ora la scala è completa come avete potuto notare ho abbastanza filo quindi facciamo subito il canvas bug 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfetto con 8 di questi così, si può mettere anche un colorante nel mezzo abbiamo la bozza la bozzina e mettiamo dentro questa roba qui ah, mettiamoci anche questo questo in questo momento mi serve ok, visto che non ne abbiamo ci facciamo un diamante con 4 ori no abbastanza diamante ecco un diamante abbiamo il diamante ora ci andiamo a prendere sia il silver ne dovrei avere un pochino eccolo qua 2 silver e abbastanza vetro anzi, prendiamolo tutto vai e un bel polivetro facciamo altre fibre ottiche nel frattempo ok, così altre fibre ottiche ecco il diamante nel mezzo perché con il silver mi metà 6 con la redstone invece ne darebbe soltanto 4 visto? almeno così consumiamo meno diamanti la 6 perfetto andiamo qui è piena addio come fu? vabbè certificherò con l'energia tanto la posso sempre tanto la rifaccio ok prendiamo giù la box scendiamo giù anche noi posizioniamo la box un cubetto più giù chiudiamo qui e mettiamo eccolo qua il cavo perfetto funziona ora dovrò prendere dell'altra cobblestone che chiaramente ne ho a bizzeffe di se oh e vabbè fino a poi azzeccherò qualcosa ok eccoci qua qua possiamo intanto chiudere l'ha affanculo l'ho messa male ok vediamo un po' prendiamoci la canvas ci prendiamo fuori la nostra bella quench riapriamo abbiamo scazzato ok si leva il cavo e giriamo e giriamo no non la possiamo girare con questa serve quell'altra allora semplicemente la buttiamo giù ok ok chiulo ok ok, adesso va bene hopla fatto adesso c'è energia sempre ok, fatto anche questa è fatta mettiamo via la roba in più ora andiamo a piantare anche questo ok diamo un po' di combustibile a questi motori no, ce ne c'è ok, allora la accendiamo e spostiamo la roba da qui e quelli serviranno per query qui ci mettiamo il lead e qui ci mettiamo il chan beer non so cosa fa però va bene ok oggi ci procuriamo un engine elettrico questo qua serve il tin il tin anche sopra e il cristone ok allora servirà l'altra tin servirà l'altra tin allora prendiamola subito qui ci dovrebbe essere una voglia abbiamo anche diverso led diverso ferro uso un altro oro un altro bel poliferro va bene i materiali non ci mancano per ora ok 1-1-2 perfetto 1-2-3-4 e facciamo i nostri belli ingranaggi li facciamo in pietra e poi in tin ok eccolo qua 1-1-2 ok li mettiamo lì facciamo un ferro una redstone tre legna e quattro belli pezzi di pietra ed ecco il nostro pistone ok leviamo qui tutto ecco qua il vetro e la tin e abbiamo il nostro electric engine ok poi serve la rolling machine eccola qui 4 ferro 4 pistoni ne ho voglia allora da allora poi farò il progetto il pistone se vi lodo com'è tre di questi da 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 1-2-3 ah finita che finita la pietra che pareva quindi vola dalla cobblestone allora tac 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 ok così poi com'era eh spero il redstone ne siamo a 4 ok poi una bella crafting nel mezzo così poi 4 pistoni così e eccolo qua 4 ferro ferri ok perfetto andiamo andiamo qua ce la posizioniamo bah posizioniamola qui ok allora si può anche andare bene così mettiamo così lo leviamo lo leviamo così facciamo da prima ci mettiamo alla rolling almeno è giurato un po' di energia arriva ok prendiamoci una leva invece ne dovremmo avere qui no ce l'avevo ce l'avevo eccole qua non sto affane dell'altra se ce l'ho di già fanculo guarda qui incorporato mi scoppiano i tubi ok così e così e attiviamo il motore ma è poca energia ma almeno ce l'abbiamo ok poi aumentando solo l'array oppa avremo assai più energia qui qui cala vabbè si sta anche facendo notte mi sembra normale ok vediamo un po' come è qua situazione è fermo andremo a portare del carbone poi intanto dormiamo ok buon salve a tutti ok tanto per cominciare cominciamo a fare gli iron tank che mi serviranno ok 1,2,3 e 4 fanculo sta mouse oh ok tanto non può vedere l'iron tank eccolo qua no questo è il block of iron fanculo eccoli qui non simili del resto ma texture ah ok perfetto possiamo ne dobbiamo fare diversi oltre che diverso vetro quindi 30 potrebbero si potrebbero bastare ma tanto produci io mi avvio a fare un bel po' di vetro che qui servirà assai assai ci fa la grave il basalto ok qui ho messo delle altre ceste ma dureranno poco si riempiranno subito ok allora prendiamo tutto e schiocchiamo tutto qua tranne questi tre ok ci facciamo un altro treat up ok andiamo giù ci prendiamo il carbone che c'è qua ok e quello che è qui mancherebbe uno che punti sono qui qui all'inizio va bene è uguale intanto ne portiamo questi alcuni sono dimenticato di di questo e poi di un'altra cosa no farò dopo tanto lascio però di legno ce l'ho ora mi viene in mente ok intanto si pianta questo le intanto andiamo a mettere il carbone qui poi si sale e si mette negli altri intanto gira ok non so neanche a che punto è che sott'acqua così non si vede ma almeno se c'è un po' di lava mi fa subito quanto è profondo se ne trova della lava mi scavo l'ossidiana visto che l'acqua spegnerà la lava e poi mi scavo l'ossidiana chiaramente fa molto prima scavare l'ossidiana il query che fa da mano ok gomma altra gomma almeno sfruttiamo un po' di quell'energia lì ci facciamo tanta 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 gomma qui ok cominciamo anche a vendere la gomma davanti a cenò ok così 10 ok oddio dove è dalla fine me l'ha presa va bene ok l'altra raggiù uno visto un altro che è pronto ok qui c'è delle zucche c'erano zombie che è sempre pronto ok andiamo a posizionare a mettere questi nell'estrattore utile mi usa anche quest'albero ok mettiamo questi qui dentro ok qui com'è qui a secco servirà farne degli altri ok allora intanto prendiamo questi dovevo fare un altro po' di vetro mi viene in mente quindi si prende un po' di cobblestone che anche da quella si può fare anche se c'è la voce in tasca e lo mettiamo qui dentro facciamo si devono riaccendere questi ok allora intanto facciamo 2 4 2 4 ne serviranno 8 di quelli là quindi proviamo a farne diversi di questi ok 16 altri 16 poi facciamo così 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 e così no come al solito ok così hm ma al culo non me l'ho preso perché avevo messo troppi lì ma va bene così ora faccio nel posizione allora posso fare altrimenti e ne facciamo almeno 8 ok ok poi ci facciamo 4 8 poi poi ci prendiamo un piccone di scorta andiamo 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 giù e picconiamo qua ok poi allarghiamo dell'altro tutto tutta la rotta tutta la rotta provare a largo di uno no no beh qua l'arrivo per bene ho tre camere spente ok però il tutto allora oh del carbone me ne serve una quantità non industriale di più ok beh prendiamolo tutto ho pure l'esperienza è un incianto non so che cosa fammene non so che ok così mamma mia quanto è c'è pure i cristalli ok mettiamo qui uno di questi perfetto ok finito era l'ora ok vi lascio aperto dopo faccio passare tutti i tubi per bene ok intanto qui come oh mi ha fatti degli altri ok vediamo un po' serve anche questo eh serve i reticoli qui una leva e quattro di quelli ok allora una leva ce l'ho facciamo le bars perfetto eccolo qua ok ne abbiamo 16 quindi possiamo farne assa di quelle valvole ma però facciamone quanti ce ne servono ovvero un paio una via ne servirebbe una ma ce ne vengono più di una ok perfetto abbiamo tutto quello che serve mettiamo mettiamo una valvolina lì poi tac 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 ok poi poi facciamo un po' più grosso lì del minimo almeno mi c'entri più mi serve dell'altro è venuto a ferro stiamo finendo tutto ma può facciamone un po' d'oro poi se serve ok facciamone un po' più accidenti ora comincio a lagga non so perché ok è notte si dorme ma viene subito giorno e comincio a farmi un po' di energia possiamo ancora aspettare ok tanto ci mettiamo i vetri ok vediamo un po' qui ehi forse non resti qui non si rompono da spaccarli ok e indietro mettiamo un po' di redstone ah un po' di energia allora produciamo un po' di energia tramite la redstone vai ok ok ha finito anche le gomme aspettiamo che produca un po' di energia ok ok 4 non basta serve uno dell'altro parecchi altri ok ora 5 ah e siamo a 8 non basta non è ancora ma almeno ci portiamo avanti ok l'is quando piglia male ok così tac 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 e tac ora siamo più vicini ok può fare anche le scale ok e siamo a 8 altri 8 questi qui però dovrebbero bastare ok 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 non basta no non basta ah un culo ne servono altri altri no no basta non basta mi ci ho messo no non basta nei vedri a cui ci mettono una valvola allora per l'uscita ok ok ci siamo ora prendiamo dei tubi che dovremmo avere ok mettiamo giù questi che però non servono più ok ne prendiamo due di legno e diversi di pietra poi li dobbiamo far diventare per liquidi vediamo un po' vedere ce ne ho di cactus vediamo un po' mmm dov'è poi non si sia qui oh ce ne ho 7 speriamo basti no non credo che però basti no ah l'idrinda due di legno il restante di pietra vabbè cobblestone però siamo vicini ok allora così così scaviamo fino a qui qui ok ecco la valvola chiaramente non basta no come potevo pensare che bastassero ok vediamo un po' vediamo un po' come si fa questo qui dal rosso andiamo a prendere un po' di rossi andiamo a sperare di averci un po' di fiori rossi in giro vicino via sta a taglio il video va a cercare i fiori rossi o i cactus e quando torno vi comincio eccoci qua eccoci qua ho trovato i cactus e ora torniamo a casa ne pianto un paio qui almeno ah rompile vediamo un po' così vada a caso fuori di sistema tanto mangiamo ok li mettiamo subito subito nella nostra bellissima fornace ok speriamo basti la potenza ah è piena fanculo se non trovo perso tungsteno andiamo subito la che è meglio devo fare subito un sistema che mi ritira fuori la roba da quella cesta perchè se no la roba rischia di sputarmela fuori oppure si ferma beh questo non lo so siccome va bene va bene meglio meglio così che si fermi piuttosto mi butti fuori la roba ok prendiamo fuori un po' di roba almeno non si ferma o non me la butti più fuori o carbone così ok ok ecco qua riprendiamo questo ne trasformiamo 8 in teoria potrebbero bastare la massa va a più altri tubi facciamo anche diventare pieno ora si dovrebbero bastare e voglio bastano ok ok uno qui e uno qui vanno? forse serve no non serve come fa? perchè mi esce dove è il carbone? eccolo qua mettiamo un po' qui un po' di qua ok ci sta che ci voglia redstone ok via bastoncini servono sempre ok due torce redstone ok proviamo così oppure devono essere quelli giusti eh oppure sono quelli giusti perchè è una piglia che funzionava pure funzionava funzionava il tank è regolare ma forse è uguale che ho piglia in mezzo va bene vediamo un po' ci riprendiamo ci riprendiamo questi due andiamo a mettere giù un po' di roba perchè sennò qui siamo belli pieni e si fa del casino i fuochi di blaze i fuochi di blaze che ho trovato mh i fuochi di blaze che ho trovato no qui mettiamo giù questi poi qua oh si ok ok meglio che di prima alzi ora pure lì non è servito perchè qua deve servì chissà cosa via facciamo una prova facciamo una prova lo mettiamo qua no niente via allora facciamo un altro giro facciamo due redstone engine vediamo un po' se così funziona facciamo due redstone engine vediamo un po' se così funziona vediamo un po' se così funziona ok facciamo da vedere l'altro legno ah quei ragno lì ha rotto le scatole ok no basta volete vedere gli altri ok Così, altri due, poi un pistone, quanti pistoni mi bisogna fare? Così, poi della cobblestone, ok, il pistone, ok, il vetro, facciamo uno però vediamo un po' se funziona, poi se ne facciamo un altro poi, tanto, sentiamo con uno, ok, ho, sei capato alla fine, l'agno del cavolo, ok, vediamo un po', adesso va? oh, adesso funziona, perfetto, dobbiamo fare un altro redstone engine oh, via, qui c'è un redstone engine ok, ne facciamo subito un altro solo che non c'è il vetro lo dovrebbe avere di qua e la voglia 32 attiviamo qui e noi ci sbarazziamo di questa roba qua ok allora facciamo un altro bel pistoncino così pistoncino così altri due di questi, poi il vetro e il legno e possiamo uscire dei motori ok ok mettiamo un altro redstone touch lì oh, no, ne ho preso uno un po' nanch'uno, ne ho fatto fare un altro per nulla vabbè, me lo metto da parte ok 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 vai uno così perfetto qui 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 qua dentro così quando si riempie almeno non ci si ferma perché qua era quasi pieno no vabbè, era sceso molto ma prima era ben più su per questo episodio come abbiamo visto la rolling machine il motore elettrico il tank e come trasportare il liquido beh, per questo episodio è tutto ci vediamo al prossimo ok ok